Vedete? Qua c'è stato un inno durante tutta la guerra. Questo è stato un inno durante tutta la guerra. Lo cantano alla radio, alla televisione, sui media, sui social. Giorno della festa della fondazione di Odessa. Odessa è in piazza, nonostante la guerra, nonostante in generale Zelensky abbia chiesto di non fare assembramenti. Odessa è un po' anarchica, un po' festaiola, un po' menepreghista. L'orchestra scende in piazza e viene a celebrare se stessa. È l'orchestra militare. Le scuole sono chiuse, o comunque gran parte non sono riuscita a aprire perché mancano gli scelte, i ricoveri per gli studenti. La città comunque celebra la sua fondazione, la festa che allo stesso tempo è una festa di indipendenza, di sfida alla guerra voluta dai russi e alla gioia di vivere, all'autunno che arriva. Grazie a tutti.